Presentato ufficialmente il primo dicembre, il nuovo modello di formazione professionale diventa realtà, con l'apertura ufficiale del bando. Aperto fino al prossimo 16 febbraio, rappresenta il primo passo verso la realizzazione di un impianto innovativo fortemente voluto dall'assessore Elena Chiorino, in cui le imprese giocheranno un ruolo determinante insieme alle agenzie formative per stabilire le competenze necessarie richieste dal mercato. A loro infatti è rivolto l'avviso regionale che detta le regole per l'individuazione delle proposte. Successivamente spetterà loro presentare una proposta progettuale. In campo sono stati investiti dalla regione 14 milioni di euro, di cui 9 per l'Academy dedicate ai sistemi di mobilità. 5 milioni di euro invece sono dedicati esclusivamente alle filiere Green Jobs, che comprendono le attività strettamente connesse all'economia circolare. Il tessile è legato ad abbigliamento, moda, giurielleria, accessori e calzature. Le aziende del sistema tessile che potranno aderire sono tutte quelle realtà legate alla moda, dalla coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili fino alle industrie. E ancora tutte quelle attività di design, di moda, design industriale, riparazione di calzature, articoli da viaggio e accessori. Per quanto riguarda l'ambito legato al Green Jobs, sono stati indicati settori di riferimento in quanto possono essere formate figure professionali che siano trasversali ad ogni genere di attività produttiva.